Chiara Ferragni ha recentemente fatto impazzire i suoi fan con una vacanza da sogno a Dubai. Accompagnata dalla mamma Marina di Guardo, dalla sorella Valentina e dal fidanzato, Chiara ha reso questa esperienza unica portando con sé anche i suoi adorabili figli, Leoni e Vittoria. Le foto condivise sui social mostrano la famiglia Ferragni immersa nella spettacolare skyline di Dubai, con grattacieli illuminati e fontane danzanti che spruzzano acqua. Chiara non ha perso l'occasione di catturare momenti indimenticabili con dei scatti bellissimi, regalando ai suoi follower un assaggio di questa serata magica. L'influencer e imprenditrice, oltre a bodersi la compagnia dei suoi cari, ha sicuramente trovato ispirazione nel paesaggio mozzafiato della città e nell'atmosfera cosmopolita che la contraddistingue. Dubai, con la sua combinazione di lusso, modernità e fascino orientale, si è dimostrata la destinazione perfetta per una pausa dalla frenesia quotidiana della vita lavorativa, e Chiara Ferragni ha saputo sfruttare al meglio ogni istante di questa meravigliosa vacanza, creando ricordi preziosi per sé e per la sua amata famiglia. Grazie.